Ieri la Caritas ha lanciato una campagna mondiale contro la fame e lo spreco del cibo col moto Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Lo ricordiamo? Lo ripetiamo insieme? Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Lo scandalo per i milioni di persone che soffrono la fame non deve paralizzarci, ma spingerci ad agire tutti, singoli, famiglie, comunità, istituzioni, governi, per eliminare questa ingiustizia. Il Vangelo di Gesù ci mostra la strada. Fidarsi della provvidenza del Padre e condividere il pane quotidiano senza sprecarlo. Incoraggio la Caritas a portare avanti questo impegno e invito tutti ad unirsi a questa onda di solidarietà. Fidarsi della provvidenza del Padre e condividere il pane quotidiano.